Vorresti dire che una donna dopo i trent'anni non debba più considerarsi donna? Perché? È proprio allora che comincia a fiorire? Giovanna, basta, ti prego. Beh, che cosa ho detto che non va? Non ti piaccia più, forse? Ma cosa dici, caro? Lo sai bene. Intanto non hai mai vinto un concorso di bellezza. Ne avrei vinti molti se avessi partecipato, ma non l'ho fatto per via della posizione di tuo padre.